Chissà, forse fra cinque generazioni, dopo il terribile straripare del tempo, il mondo ricorderà l'epoca dei turbamenti e il mio nome fra gli altri. Questi sono versi scritti da una poeta rivoluzionaria, disubbidiente, russa, nata nel 1901 e morta nel 1976. Il suo nome è Anna Barcova e i suoi versi scritti quasi esclusivamente all'interno dei Gulag, non solo ovviamente, hanno avuto poi una notorietà molto tempo dopo la sua scomparsa. Parlo di Anna Barcova perché l'ho incontrata strada facendo nella scrittura delle Magnifiche Ribelli, un libro dedicato a un manipolo di un gruppo di donne rivoluzionarie, quasi esclusivamente di estazione anarchica, di appartenenza anarchica, ma non solo. La Barcova non era un'anarchica. Che partecipano con entusiasmo ovviamente fin dall'inizio a quella che è stata la rivoluzione russa, ma che poi diventeranno dissidenti, disubbidienti, si opporranno a quella che è stata la degenerazione di quella rivoluzione stessa. Barcova è una di quelle e mi ha sempre affascinato soprattutto per le sue poesie che ho utilizzato all'interno di un libro di storia per raccontare delle storie di donne rivoluzionarie e disubbidienti. Non è lui. Indietro lui non torna. Penso perché siamo amici. Oggi non prendo sonno, amico caro, ma domani ti mando uno sguardo d'amore e poi premo il grilletto. Adesso dormi, è l'ora e tu sei così stanco. Ti bacerà sul petto la mia palla, io sulla bocca. La Barcova è entusiasta della rivoluzione, arriva a Mosca, lei era nata a Ivanovo, una città industriale distante, diversi centinaia di chilometri da Mosca, chiamata la Manchester russa. A partire da una famiglia molto povera, poverissima direi. È la sopravvissuta di cinque fratelli che muoiono tutti. Riesce a studiare però. Riesce a studiare al ginnasio perché il padre fa il portiere di quella scuola e ha un obiettivo, diventare una poetessa, una poeta, come piace definirla. Ci riesce. Arriva a Mosca, siamo negli anni venti, assunta al commissariato per la cultura. Poi succede qualcosa, succede che si accorge di comportamenti degenerativi, diciamo, di quel potere rivoluzionario. Non è che li denuncia politicamente, li scrive, li denuncia anche a delle amiche privatamente, attraverso delle lettere, con delle apprezzamenti dei giudizi di carattere etico-morale. Ma questo è sufficiente. Siamo ormai nell'epoca dello stalinismo, nel 1934, viene ovviamente arrestata per la prima volta e subirà altri tre arresti, nel 1947 e nel 1957. Sostanzialmente passerà trent'anni della sua vita nei Gulag. Ne uscirà nel 1965, riabilitata, dicono. In realtà, gli ultimi undici anni della sua vita, fino al 1976, li vivrà in totale isolamento e completa povertà. Nella vita, nei pochi momenti di libertà, tra virgolette, tra un arresto e l'altro, si dedicherà anche alla cartomanzia, pur di poter sopravvivere e continuare a scrivere le sue poesie. Il benessere dello schiavo. Il benessere dello schiavo, lo stambugio delle lettere di delazione, uno spazio per tre. Il fumaiolo che fischia con l'asma della bufera di neve. Che aspetta lo schiavo? Da tempo tutto svanito, i suoi pensieri come una baldracca si infilano nel letto statale. Non importa. Ma che raccapriccio a volte. L'uomo che ama con l'anima sdoppiata. E nello stambugio ne attende un altro. Lo stambugio di lavoro. Il tavolo è grande. Il gancio chiude la porta. Della serratura inutile. La vergogna pesa tanto ad ogni passo. Le radici della vita si rafforzano nel cuore. Per ogni sorta di male sono passata. Ma il più malvagio, infame, è questo. È stata riscoperta molto tempo dopo, agli inizi degli anni 2000. È uscita una raccolta di tutte le sue poesie ed è uscita anche una biografia. In Italia anch'essa è stata scoperta negli anni 2000. È così che sono riuscito ad avvicinarmi a questo incredibile personaggio. Si dice di lei, leggo, che rappresenta la letteratura doppiamente nascosta sia quella femminile, diversa, sia quella nata nell'illegalità del lager. Attraverso i Samizdad negli anni 70 ha un discreto successo. Poi viene completamente ingoiata dall'oblio della storia. Non è soltanto la tematica del lager. È il suo destino personale quello che emerge dalle poesie. Ma io sono uno storico e quello mi ha colpito e interessato perché anche attraverso la poesia si può, anzi molto spesso si raccorda ancora più profondamente, gli eventi, i turbamenti come dice lei del passato. Cinque generazioni per essere ricordata solo col suo nome. Lei è stata ricordata grazie al ritrovamento di un suo fascicolo interno di archivi aperti con la fine del comunismo per studiare quel periodo e dalle carte apparentemente inerti di un ufficio, di uno dei gulag dove lei è stata imprigionata, sono emerse in realtà poesie e una storia da un certo punto di vista straordinaria. La voce rocca è brutale. La voce rocca è brutale, non dai dolci sussurri né dal canto. Labbra lievemente livide, una rete di rughe bizzarre, il corpo, pelle e ossa da poter far male abbracciando. Non dubitate però che tutto questo non possa essere amato. Con la vodka forte e schifosa che di fuoco ardente brucia cervello e gola e trasforma servinzar. Come nel mostruoso anno dalla fame si ama la putrida crosta di pane, amano e bruciano così la mia bocca livida di piede. Ancora fermo ombivio, ancora fermo ombivio, mio afflitto spirito profetico, a cui sci vista e udito davanti a che? Ancora un nuovo superbo errore. Non dovrebbe, ma nasce. Non dovrebbe, ma giunge solenne. Senza fine si prolunga l'attesa, si prolunga e cresce. Scoccherà l'ultimo attimo e la sua frazione deflagrerà. Insorgerà la terra stravolta, alterando il suo volto ferino. Anna Barcova resterà sempre convinta di avere un riscatto, un riscatto che la riconosca nuovamente, ma questo non accade assolutamente e quindi, come ho detto, morirà in totale solitudine.